Sono positive le stime sulla produzione del vino in Toscana nel 2019. I dati che arrivano dagli agricoltori e dai consorsi convergono, con l'eccezione di alcune zone in cui le violenti ondate di maltempo dell'estate hanno duramente danneggiato i vigneti, su una previsione di aumento del 10% rispetto al 2018 e soprattutto rispetto al 2017, quando le gelate primaverili e la siccità misero in ginocchio l'intero settore. Le previsioni sono previsioni buone, molto buone. Per quello che riguarda la qualità, i dati di cui noi siamo in possesso ci dicono che sarà un'annata medio alta e quindi sicuramente molto positiva. Questo è un po' il dato che raccogliamo anche in tutta la parte della Toscana, dai consorsi, dai produttori. Quindi su questo c'è un dato di ottimismo. Anche per quello che riguarda la quantità, diciamo ad oggi, il dato di cui noi disponiamo è un dato anche questo molto positivo. Si parla di una percentuale di crescita rispetto al 2017-2018 di oltre il 10%. Vediamo come si posizionerà a termine raccolta. Previsioni positive sia sul piano qualitativo che quantitativo che pongono la Toscana in controtendenza con un andamento nazionale che, secondo le prime stime, vedrà un calo di produzione di circa il 16%. A vantaggio di produttori concorrenti come Spagna e Francia, la Toscana nel 2019 punta a recuperare il proprio standard di produzione. Se lo paragoniamo, diciamo, ai dati di altre regioni che sotto l'aspetto climatico hanno avuto più problematiche di noi, l'Emilia, il Veneto, il Friuli, il Piemonte, la Liguria, dove tutti parlano di raccolti anche per il 2019 di meno 15-20%, la Toscana, diciamo, ha una positività che noi riteniamo importante. Così come importante per l'assessore Remaschi è stato anche il gioco di squadra tra regioni, agricoltori e consorsi sul piano degli investimenti di risorse regionali, del programma di sviluppo rurale e comunitarie, impiegate anche nella ristrutturazione dei vigneti, messi nella condizione di incrementare la produzione delle uve. Dal 2000 in qua noi abbiamo rinnovato circa il 50% dei vigneti totali, dei 60.000 ettari, poco meno di 30.000 ettari. Stiamo investendo risorse dell'Ocm e risorse del piano di sviluppo rurale, insieme chiaramente agli agricoltori, per la promozione. Sta dando risultati soddisfacenti. Il brand Toscana funziona grazie anche al lavoro del rinnovamento, dell'innovazione che stanno facendo gli agricoltori in cantina e in campo e non solo. E questo ci fa sicuramente ben sperare. La forza che noi abbiamo è quella di stare uniti, di fare massa critica, istituzioni, agricoltori, organizzazioni e allora probabilmente si possono ritrovare risultati molto molto buoni. Un'unione di forze che alla Toscana serve a restare competitiva su un mercato internazionale che è di vitale importanza per il mondo del vino, che resta tra le prime voci nell'export nazionale e in cui le insidie non mancano come nel caso della Brexit, dei dazi minacciati dagli Stati Uniti nei confronti dell'Unione Europea e della recessione tedesca. Su questo piano per la Toscana resta fondamentale la promozione della propria identità attraverso il vino. Oggi si fa buon vino in tante parti del mondo. Mi viene in mente l'Africa come il Cile, l'Argentina come l'Australia. Una serie di iniziative che stanno concentrando l'attenzione sulle produzioni vitivinicole. Noi come Regione Toscana dobbiamo fare il nostro, puntare molto sulla qualità, cosa che abbiamo fatto e come si dice sempre vendere nelle bottiglie, oltre alla grande qualità del vino, anche un po' del nostro territorio. Perché qua abbiamo la storia, la cultura, la tradizione e anche quel modo di vivere che della Toscana, diciamo, è invidiato a livello mondiale. Questo è quello che credo che dobbiamo fare. Quindi sicuramente siamo attenti, direi non preoccupati, ma sicuramente molto attenti a quelle che sono l'evoluzione dei mercati. E ci dobbiamo far trovare pronti con prodotti di grande, grande qualità. E tra i prodotti di grande qualità della Toscana, oltre al vino, c'è anche l'olio. Qui le previsioni sono meno ottimistiche, con una produzione che si preannuncia in calo rispetto all'anno scorso, fiaccata dal maltempo e dagli sbalzi termici, che si sono verificati nel momento delicato della formazione delle olive dopo la fioritura, in particolare nelle zone interne della Regione. Abbiamo maggiori preoccupazioni che derivano chiaramente dall'andamento climatico che c'è stato, tanto fino al mese di maggio con una grande piovosità che ha inciso in maniera importante sulle fioriture. E poi il mese di giugno, dove siamo passati da temperature molto basse di maggio a temperature molto alte nel mese di giugno, e questo chiaramente non ha favorito, specialmente in alcune aree della nostra Regione, perché qua si parla a macchia di leopardo, per esempio sull'aspetto Livorno, sull'aspetto di una parte della costa pisana e all'interno su Pistoia, dove la quantità è un po' più preoccupante rispetto a prima. Nel periodo della legagione sono successe alcune problematicità e questo incide sull'aspetto della quantità. Il clima fresco e umido, seguito al caldo torrido, poi ha riacceso i timori sugli attacchi della mosca olearia alle produzioni. Da qui la decisione di creare un sistema di monitoraggio regionale per aiutare e informare gli agricoltori. Noi qua come Regione Toscana abbiamo in piedi, diciamo così, tutto un monitoraggio che portiamo avanti giornalmente, settimanalmente, mettiamo dei bollettini, questo gli agricoltori lo sanno, le organizzazioni anche, dobbiamo stare molto attenti, seguire quelle che sono le indicazioni che vengono fornite su questi bollettini, perché ci sono tutta una serie di campionamenti che noi facciamo tramite il nostro servizio fitosanitario sulla Regione Toscana, che possono aiutare chiaramente i produttori. Intanto, anche sul fronte dell'olio, è opportuno continuare a investire in nuovi impianti per essere più competitivi sui mercati esteri e incentivare la produzione. Gradualmente si stanno anche realizzando degli investimenti per nuovi impianti, che faranno nel corso dei prossimi anni, noi speriamo crescere la produzione e innescare un meccanismo virtuoso. Io vorrei, voglio dire, che si pensasse all'olio come abbiamo pensato al vino dopo il metanolo nell'86, perché noi dobbiamo lavorare sulla qualità, però dobbiamo anche nell'ambito dell'olio puntare molto su nuovi impianti, perché effettivamente a livello di quantità ne abbiamo quantità molto ridotte e quando si innescano andamenti climatici non favorevoli si rischia veramente di parlare di poco prodotto e questo ci crea un problema sui mercati internazionali e anche nazionali, chiaramente. Proprio le perturbazioni sempre più improvvise e intense, spesso accompagnate da grandinate e vento, sono uno dei fattori entrati in gioco negli ultimi anni. È possibile prevederne l'arrivo, ma non l'intensità e soprattutto le conseguenze per i raccolti. Si può comunque dare una risposta agli agricoltori? Noi dobbiamo lavorare con gli agricoltori sulle assicurazioni, capire cosa è possibile assicurare per non esporre gli agricoltori da una parte alla volatilità dei prezzi e quindi ai cambiamenti dei prezzi dei singoli prodotti, dall'altro anche alle stagioni e ai rischi indubbiamente a cui siamo esposti per quello che riguarda i cambiamenti climatici. È un aspetto che stiamo approfondendo, che stiamo valutando perché altrimenti c'è una forte preoccupazione in questo senso. Ad oggi diciamo che per quanto ci riguarda per l'annata 2019 abbiamo avuto in alcune aree, vorrei parlare di Cortona, dell'Aretino e di qualche altra area, eventi climatici che hanno inciso negativamente su questo tipo di aspetto. Ecco, ricordiamoci che in queste aree si parla di aree che hanno una vocazione agricola molto molto importante e chiaramente in quella parte di Toscana c'è oggi molta preoccupazione. Anche per venire incontro a queste preoccupazioni, la Toscana punta al massimo coinvolgimento del mondo agricolo e dell'Europa. Quali iniziative sono in programma nei prossimi mesi per aiutare l'agricoltura toscana anche a livello europeo? Noi abbiamo calendarizzato tutta una serie di altri interventi sul PSR, abbiamo ancora da allocare circa una novantina di milioni di euro dei 950, quindi ancora alcune risposte in ambito dell'aggregazione, in ambito degli investimenti verranno sicuramente fatte. Poi dovremo riallocare tutta una serie di economie. Abbiamo un'attenzione particolare per quello che riguarda il biologico, abbiamo un'attenzione particolare sempre per quello che riguarda i giovani, abbiamo fatto scorrimenti importanti per tutto l'aspetto dei gruppi operativi, che vuol dire innovazione in agricoltura e l'innovazione è fondamentale per l'agricoltura. E poi non ci dobbiamo scordare che appunto, come dicevo all'inizio, bisogna continuare a investire, perché investire vuol dire crescere, vuol dire svilupparsi, vuol dire consolidarsi.